Proseguono in Val di Scalve le trattative tra i quattro sindaci per trovare un accordo sui futuri assetti ai vertici della comunità montana. Dato per scontato, ma non del tutto, il ritiro dell'attuale presidente Franco Belingheri, che abbiamo sentito alcuni giorni fa, si fanno con insistenza per la sua successione i nomi di Franco Spada, di Schilpario e di Giovanni Toninelli, di Vilminore. Anche le minoranze sono d'accordo però sul fatto che bisognerà guardare più i programmi che alle singole persone. Ci sono già stati due incontri, chiaramente c'è una candidatura di Schilpario per Franco Spada, poi c'è una candidatura di Toninelli del comune di Vilminore e c'è l'uscita dell'attuale presidente Belingheri Franco e qualcuno lo vorrebbe riproporre. Siamo un po' in alto mare e si pensa invece a trovare un accordo tra i vari comuni rispetto ai programmi più che rispetto alle persone. Le priorità del programma trovano sostanzialmente d'accordo maggioranza e minoranza, con la preoccupazione comune di salvare dai tagli soprattutto l'ottimo standard dei servizi sociali della valle, che rappresentano anche un'opportunità di lavoro per tante persone. L'emergenza occupazionale in Val di Scalve, sicuramente quello è il primo punto all'ordine del giorno. Ci sono comunque tutti i servizi sociali che comunque hanno una tradizione, una cultura molto storica in Val di Scalve e sono servizi che attualmente non hanno la copertura finanziaria. Quindi i comuni o integrano le quote che servono per mantenere lo standard di adesso oppure si deve ricorrere ai dettagli. Quindi credo che comunque le risorse vanno trovate e i comuni debbano destinare delle risorse spostandole da altri interventi. I servizi sociali rispondono ai bisogni delle persone ma rappresentano anche un'opportunità di lavoro.